ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò come completare la sfida di atterrare con un cioppa alla base di una delle due ciminiere a foschi fumaioli vi dirò la verità questo video l'avevo già fatto solo che sono cambiate delle cose infatti la posizione di alcuni elicotteri non corrispondono più non so perché li hanno rimossi quindi ho deciso di rifare il video allora prima di tutto prendetevi un elicottero potete utilizzare questa base oppure l'autorità o altre località se le conoscete quindi io sto prendendo questa prendo come punto di riferimento il fatto che cioè o meglio la premessa che sapete che non potete in rissa squadre prendere gli elicotteri quindi dovete giocare a singolo coppie squadre ma non rissa squadre quindi la prima cosa da fare è prendere l'elicottero potete scegliere l'elicottero che preferite quindi ci sono diverse località alcune non esistono più purtroppo infatti io solitamente prendevo l'elicottero qui ma non c'è più non so perché è stato rimosso con un recente aggiornamento quindi una volta che avete preso l'elicottero dovete raggiungere i foschi fumaioli non vi basterà atterrare alla base come si credeva cioè fuori praticamente o dentro ma nella sommità bisogna atterrare proprio dentro alla base della ciminiera adesso comunque vi mostro come fare questo è l'elicottero più vicino perché poi c'è quello all'autorità e la distanza bene o male quella c'era anche quello in fondo però l'hanno rimosso per qualche strano motivo altrimenti lì diciamo la sfida si completava subito probabilmente l'hanno rimosso perché alcuni completavano la sfida di atterrare a fattoria frenetica e arrivare tra i primi 25 con il trucchetto nel senso che prendevano l'elicottero e rimanevano poi in cielo fino a quando non arrivavano a 25 non lo so per quale motivo però stava lì l'elicottero adesso non c'è più magari poi lo ripristineranno chi lo sa comunque una volta che avete preso l'elicottero raggiungete foschi fumaioli e atterrate dentro cioè proprio dentro ecco infatti c'è un altro giocatore che sta cercando di fare la sfida dovete entrare dentro la ciminiera cioè qui dovete proprio entrare dentro qui fino in fondo scendete 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 io già l'ho fatto ovviamente quindi non me la darà scendete e atterrate qui atterrando qui completerete la sfida ciao 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 ciao